Ciao, benvenuti su Onni Momento. Oggi ti presento uno dei miei video favoriti di Claudio Padovani, ricco di concetti e pieno ma pieno di pepite d'oro. È un video risposta. Uno di voi ha chiesto a Claudio Padovani se è possibile programmare la mente attraverso un mantra e come farlo per migliorare se stessi. Bene, ecco il video risposta. Ti lascio con il video di Claudio Padovani, insegnante di meditazione e counselor di comemeditare.it e ricorda che se vuoi sapere di più sui mantra o su come meditare puoi guardare la playlist di Claudio qui o visitare il suo canale YouTube Claudio Padovani con oltre 250 video gratuiti in cui condivide molto. Bene, se hai domande puoi lasciarle qui nei commenti come ben sai già. Un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao e benvenuti su Ogni Momento da Claudio Padovani di comemeditare.it. Oggi rispondo a una domanda sui mantra, sul potere dei mantra, ma soprattutto sul vero potere della trasformazione, perché di questo in qualche modo si sta parlando. La domanda è questa, è una domanda di Steluc che è sarebbe molto interessante sapere se è possibile programmare se stessi attraverso un mantra. Si dice che ripetendo le affermazioni si riprogramma la mente. La mia domanda è si può migliorare un'affermazione aggiungendo un mantra sacro? Se sì, cosa consigliebbe per raggiungere gli obiettivi e migliorare se stessi? Grazie mille. Allora, dunque qui ci sono due domande, ok? In realtà ce n'è più di una, più di due anche. Però diciamo che una verte sul fatto che si vuole sapere se i mantra trasformano e in che modo questo possa avvenire e come si può migliorare se stessi. Allora, la domanda letterale, cioè la risposta letterale alla domanda se è possibile programmare se stessi attraverso un mantra, la risposta in linea di principio, in linea teorica, sarebbe sì. Si può. Attraverso un mantra si può. Però non mi piace dare questa risposta. Mi piacerebbe di più dire di no. Mi piacerebbe di più dire di no. Non è la risposta giusta, no? La risposta giusta è sì. Però se dico sì, finisco per farvi cadere in un tranello. Finisco per farti cadere in un tranello. Il tranello è che noi... è questo. E mi prepara anche a rispondere piano piano a come si può veramente migliorare se stessi. Allora, i mantra hanno effettivamente un potere trasformativo. Aiutano ad allineare noi stessi rispetto a un principio. Un principio che cambia a seconda del mantra. Quindi il mantra effettivamente può supportare un percorso di crescita e di trasformazione. È vero. Però richiede, ed è lì l'inghippo, richiede il bisogno di voler veramente trasformare se stessi. Ma chi lo chiede? Cioè, chi è che vuole trasformare se stessi? Mi spiego meglio. Noi siamo conscio e inconscio. È stato dimostrato che gran parte della nostra essenza è inconscia. Più del 95%. Solo il 5% è inconscio. È conscio. Ora, le variabili non me le ricordo con precisione. Se sono il 7% contro il 93% o se sono il 3% contro il 97%. Insomma, stiamo parlando di più del 90% di noi stessi è inconscio. Questo da un punto di vista proprio psicologico è stato studiato e approfondito. Noi, quando ragioniamo, ragioniamo con la parte conscia. Allora, chi è che vuole? Chi è che vuole? Perché se vuole, se chi vuole sei veramente te, quindi il 90%, il mantra è di supporto. Ma dal momento in cui la stragrande maggioranza di noi ragiona soltanto col 5%, senza voler conoscere il resto e vuole piegare il resto al 5%, non funzionerà. Lo spiego meglio. Se tutto te stesso naviga in una direzione, è una parte piccola di te stessa. Quella che sta al timone vuole andare dalla parte opposta, di dove stanno remando i tuoi remi e di dove l'universo ti sta spingendo con la corrente. Quindi c'è una barca che è spinta dalla corrente, che è l'universo che sta andando in quella direzione. I tuoi remi, cioè tutti i tuoi rematori, che sono tantissimi, sono allineati con l'universo e remano nella stessa direzione e tu col timone vuoi andare dalla parte opposta. Non ci riuscirai. Per questo la risposta mi piacerebbe fosse no. C'è un unico modo per riuscire veramente a trasformare te stesso è allinearti col tuo vero io. Allinearti col tuo vero io richiede il presupposto che tu debba fare un lavoro di conoscenza di te stesso. Questo è imprescindibile. E qui andiamo a rispondere alla seconda parte della tua domanda. Come fare? Cosa consiglierebbe per raggiungere gli obiettivi e migliorare se stessi? Per raggiungere gli obiettivi e migliorare se stessi bisogna migliorare se stessi e raggiungere gli obiettivi. Cioè si parte da conoscere se stessi. Conosci te stesso, era scritto nei tempi greci, che è la culla della nostra civiltà. Ma anche tutta la psicologia moderna dice questo e attinge culturalmente anche dall'Oriente. Tutto verte sul conoscere se stessi. Quindi questo è uno dei motivi per cui amo i mantra, consiglio i mantra, ma li consiglio dopo. Li consiglio come supporto, li consiglio come aggiunta, li consiglio come booster, come degli acceleratori di un processo che comunque non è basato sui mantra, è basato sulla consapevolezza. Tant'è che io tendo a insegnare tecniche di consapevolezza prima ancora dei mantra. Cioè la mia tecnica, la tecnica che io consiglio più di tutti è la vipassana o la mindfulness, che è la stessa cosa. Cioè la vipassana in realtà è la fonte della mindfulness, per cui preferisco la vipassana. La mindfulness, diciamo, è copiata in qualche modo dalla vipassana. Alla fine concidono, però diciamo è più ricca, è come fare una fotocopia. È chiaro che l'originale è meglio, no? L'originale è la vipassana. La vipassana è una parola usata da Buddha che significa visione profonda, quindi che già presuppone il fatto che tu vai a visionare in profondità dentro te stesso. Capisci che voler cambiare se stessi senza conoscere se stessi non può funzionare. C'è bisogno di partire da quello e quindi andare in profondità. Mindfulness è una parola inglese che significa consapevolezza. In realtà significa più precisamente essere pienamente presenti a se stessi. Ecco, quanto sei pienamente presente a te stesso quando mangi una cosa? Quanto sei consapevole? Perché solo se stai con quello che c'è puoi veramente cambiare quello che c'è. Se tu ti affretti a voler ottenere un risultato diverso da quello che c'è, non guardi neanche quello che c'è. Questo lo rispiego perché fa di nuovo parte del tranello. Noi vogliamo cambiare la realtà, ma non la conosciamo questa realtà. Come puoi cambiare qualcosa partendo dal qui e ora, cioè partendo da quello che sei, se non sai neanche quello che sei? Faccio un esempio molto pratico per capire meglio questo concetto, perché in realtà è semplice, però non può essere dato per scontato. Se io voglio andare in Giappone, voglio tanto fare un viaggio in Giappone. La mia mente va al Giappone, va al Giappone, va al Giappone, ma io sono a casa mia, vicino Roma, in camera, seduto sulla schivania. Questo è quello che sono io qui e ora. Se voglio andare in Giappone e continuo a sognare il Giappone, che io sono in Giappone, che mi muovo nel Giappone, continuerà a essere un sogno. Io per andare in Giappone devo fare un primo passo, ma il primo passo non è vicino al Giappone. Il primo passo parte da qui, da dove sono adesso. Quindi il primo passo che devo fare è alzare il telefono e chiamare un'agenzia di viaggi, guardare quanto costa un biglietto per il Giappone, alzarmi da qui. Quindi il primo passo parte comunque da qui per andare verso un'agenzia di viaggi. Ecco, questo presuppone il fatto che io debba partire da quello che c'è qui e ora. Quindi io devo sapere dove sono qui e ora. Lo devo sapere per poter trasformare e ottenere un cambiamento rispetto al qui e ora. Però se io mi affretto, se non mi piace il qui e ora, non mi piace e non ci sto. Non ci voglio, non lo voglio neanche vedere. Vedo direttamente il Giappone e io vivrò nel mondo dei sogni. E quindi il mantra non funzionerà, perché non mi è di supporto. Bisogna partire da quello che c'è nel qui e ora. E questo è un primo aspetto. La stessa risposta te la posso dare guardando la stessa cosa da un punto di vista leggermente diverso, usando chiavi diverse, chiavi più esoteriche e spirituali, diciamo così. Allora, tu parli di affermazione aggiungendo un mantra sacro, ok? Riprogrammazione della mente. Allora, tutto questo è possibile, effettivamente. Questo però mi fa pensare che tu conosci la legge dell'attrazione. La legge dell'attrazione che cosa dice? Dice che se io programmo la mia mente in una direzione e attraggo le cose. Funziona? Sì, funziona. La stessa legge, comunque, può essere detta la legge dello specchio. Cioè, com'è che funziona la legge dell'attrazione? La legge dell'attrazione funziona se io sono in sintonia con quella... se io vibro di quella vibrazione. Se io mi sento ricco, piove sul bagnato e divento ricco. Però il presupposto di partenza è che io mi devo sentire ricco. Se io voglio sentirmi ricco un domani e voglio fare di tutto per sentirmi ricco un domani, io continuerò a vibrare della vibrazione che io un domani sarò ricco, non oggi. La legge dello specchio, che è la stessa legge vista con termini più puliti, più chiari, dice una cosa molto semplice, che la realtà non è altro uno specchio del nostro essere. Noi vediamo la realtà, questo è anche scientifico sotto certi profili, la scienza arriva poi fino a un certo punto. Però anche la scienza dice che, per esempio, lo stesso colore, avendo noi dei recettori diversi da soggetto a soggetto, sicuramente da un cane a un essere umano cambia, ma anche da essere umano a essere umano delle sfumature cambiano completamente, quindi lo stesso colore noi lo vediamo in modo diverso. La realtà è vista in modo diverso e ognuno vive nel suo mondo. Questo è la realtà, che in qualche modo la scienza ha, sotto certi profili, ci sta arrivando. La legge dello specchio che cosa dice? Che noi spesso vogliamo pettinare lo specchio, cioè noi vogliamo cambiare la realtà fuori da noi, senza cambiare noi stessi. Non funziona. Se tu vuoi pettinare lo specchio, non sarai pettinato, dovrai pettinare te stesso. Lo specchio ti aiuta a conoscere te stesso. Quindi relazionarsi con la realtà ci aiuta a conoscerci. Ma poi noi stessi, se vogliamo cambiare qualcosa fuori, abbiamo la necessità di cambiare qualcosa dentro. Vedi come tutto torna. Tra l'altro, qual è la tua mission? La tua anima, si dice che l'anima si incarna con una missione, sa in qualche modo si rincarna perché vuole fare delle esperienze. Quindi va a scuola, questa nostra vita è una scuola, per vivere delle esperienze. Quindi la tua anima sa cosa vuole. Certe volte vuole attraversare delle difficoltà per poterle superare, per aver fatto esperienza, per aver potuto fare quell'esperienza. Si va proprio a cercare quelle difficoltà. Qual è la tua mission? Perché se la tua missione è diversa da quello che tu vuoi, se la tua missione è avere una ricchezza non economica, ma una ricchezza di altra forma, è bene che tu ti allinei con quello. Perché, tornando all'esempio della barca che la corrente ti spinge naturalmente verso quella che è la tua mission, il tuo inconscio sa cosa vuole l'anima, perché è molto allineata con la tua anima. Il tuo inconscio, se non è allineata con la tua anima, non avrà successo. Non avrà successo. È vero che il tuo inconscio allineandosi con la tua anima può influire, può influenzare, ma è più vero che più conosci te stesso, è più sarà il tuo conscio che si allineerà con la tua anima e che sarà a sua volta coadiuvato dall'universo. Cioè, tutto andrà facilmente in una direzione. Questo dice la legge d'attrazione. Se tu vibri di quella vibrazione, attirerai naturalmente delle cose. E allora sì, ma altre cose saranno di supporto, velocizzeranno questo processo. Ma c'è il bisogno fondamentale che tu sappia, che tu allinei. Poi c'è chi dice col mantra le allinei più velocemente. Sì, ok, è vero che anche il mantra può aiutare questo processo, ma il più delle volte noi occidentali vogliamo ottenere un risultato, vogliamo stare in Giappone, vogliamo già stare in Giappone senza neanche prendere il biglietto. Questo non funzionerà. Per prendere il biglietto devi partire dove sei, qui e ora. E allora, boom, e allora tutto va nella stessa direzione. Se la corrente va da una parte, i remi vanno dalla stessa parte e tu che piloti la barca vai nella stessa direzione, bingo, arriverete velocemente dove vuoi arrivare. E allora sì, i mantra saranno dei remi in più che si aggiungono alla tua barca, arrivandoci molto più velocemente. Gli stessi mantra possono aiutarti, cioè programmare la mente è possibile, effettivamente. Cioè, se io non ho fiducia in me stesso e nella mia mission, questa sfiducia non mi è di aiuto. Mantra e cose del genere mi aiutano a riguadagnare fiducia in me stesso e abbattere quelle resistenze che mi impediscono di andare verso quello che la mia anima voleva. Ma mi aiutano ad abbattere le resistenze che io apporto con la mente per andare in quella direzione. Attenzione, non puoi andare controcorrente. Questo non lo potrai fare. Non lo potrai fare. O meglio, lo puoi fare, ma è una lotta estenuante contro te stesso dove, come tutte le guerre, chi perde sono tutte e due le parti. E se tutte e due le parti sei te stesso, stai facendo una guerra che ti consumerà soltanto e non ti porterà da nessuna parte. Quindi conosci te stesso e poi pianifichi. Ecco, questo è il mio invito. Conosci te stesso. conosci te stesso? Conosci te stesso. Pettina te stesso e vedrai che lo specchio ti rimanderà un'immagine di te pettinato. Ma è te stesso che devi cambiare. È te stesso che devi conoscere ed è te stesso che devi cambiare. Se non parti da quello che sei qui e ora, in Giappone non ci arrivi. Spero di essere stato chiaro. E quindi sì, è vero, i mantra servono, ma i mantra servono a chi fa già un percorso di trasformazione. Sono di supporto a chi fa già un percorso di trasformazione. Quindi usali, ma usali con cognizione di causa. Se ti chiedi comunque cosa consiglierei per raggiungere gli obiettivi, ma aggiungi e migliorare te stesso, hai una buona intuizione. Segui quella, però dai priorità a quella. Migliora te stesso in direzione di dove vuoi arrivare. E quella direzione potrebbe poi piano piano aggiustarsi sempre di più in linea con quello che è la tua vera volontà. Perché ti conoscerai sempre meglio e quindi sarà sempre più efficace. Quindi parti dal conoscere te stesso. E lì, e lì, otterrai dei bei risultati. Soprattutto vivrai meglio. Questo è il mio consiglio per te. Stavo per salutarti, ma mi viene in mente un'altra cosa. A supporto, a suffraggio di quello che ho detto. Molti mantra, soprattutto quelli tibetani, quelli buddhisti, partono con la parola OM e finiscono con la parola SOHA, OSWHA. Comunque è un suono molto simile che talvolta lo scrivono in un modo, talvolta S-H-O-A, talvolta S-W-A, cioè in modo completamente diversi. Però si suona suona allo stesso modo. Questo suono finale fa un po' da suggello del suono iniziale. Allora, OM è l'aspetto divino, l'aspetto di allineamento con l'universo, mettiamolo così, con la legge di natura, verso cui vogliamo tendere. Quella è la nostra intenzione. Lì, diciamo, si radica la nostra intenzione. Il mantra in mezzo, per esempio quello di Tara, molto bello, dove c'è un aspetto che ci fa allontanare delle resistenze, uno che ci fa credere in noi stessi e uno che trasforma, un tare tutare ture SOHA, alla fine però del mantra c'è questa parola SOHA. Questo SOHA è molto molto simile a AMEN, cioè a così sia, a così sia, ma ha un'enfasi sull'adesso, così è adesso. Tant'è che il mio maesso lo traduce direttamente con adesso, adesso, cioè invece di AMEN, adesso. Quindi vedi come questa trasformazione non è proiettata nel futuro, ma è una vibrazione che viene stimolata nell'adesso. Quindi tutto è adesso, la trasformazione avviene nell'adesso. I frutti li raccogli in futuro. Ecco, un'altra, vedi quanti... non finisce più questo video. Un altro aspetto con cui possiamo vedere il problema è la parola karma. Tutti pensano che karma sia qualcosa di chissà quanto magico. No, è una legge molto meccanica, molto meccanica. E la parola in sé, karma, in sanscrito, significa azione. Karma significa azione. Quindi dipende da come agisci adesso. È vero che raccoglierai in futuro quello che semini adesso, ma quello che raccogli adesso l'hai piantato tempo fa. E non è altro che una risposta meccanica a quello che hai piantato. Non c'è morale, non c'è una punizione o un premio. È semplicemente che se io pianto cavoli e non l'innaffio, innaffiare è un'azione, ma se non l'innaffio non otterrò niente. Ma se pianto cavoli e poi l'innaffio, se tutte le azioni vanno in una direzione, io otterrò cavoli. È quasi ovvio. Posso non raccogliere niente, ma di certo non raccolgo albicocche. Per raccogliere albicocche oggi, domani, cioè per raccogliere albicocche domani, devo oggi piantare albicocche. Ma se oggi pianto cavoli, posso aspettarmi che di raccogliere cavoli. Tutto dipende da come agisci adesso. Da come agisci adesso. Adesso raccogli per il futuro, per il passato, e adesso pianti per il futuro. È tutto adesso. Adesso raccogli, adesso pianti. Noi vogliamo vedere adesso un risultato, un'azione che abbiamo diversa da quella che abbiamo. Oggi vorremmo vedere il Giappone, ma non abbiamo fatto nulla per andare in Giappone. Quindi non vediamo il Giappone, lo vediamo solo nell'immaginazione. Oggi però possiamo piantare un seme per andare in Giappone. Ma non possiamo cambiare il fatto che siamo in Italia. Non possiamo cambiare quello che c'è nel qui e ora. Non adesso. Adesso possiamo solo prendere atto di quello che c'è qui e ora. È da lì che parte la conoscenza. Gran parte di noi vogliono un mantra per essere magicamente in Giappone. Non funzionerà. Non funzionerà. Dobbiamo partire con quello che c'è qui e ora, agire di conseguenza, e allora sì, i risultati non tarderanno a venire. Ma dobbiamo agire in quella direzione partendo da quello che c'è qui e ora. Conosci te stesso. Bene, dopo questo lunghissimo video non mi resta altro che salutare. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici. Anzi, se vuoi conoscere della meditazione di consapevolezza, se vuoi fare il mio corso, è molto semplice, chiederò a quelli di ogni momento di lasciare un link. Bene, conosci te stesso. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici. Grazie.